...e d'altronde, in ogni pezzo, vediamo questa sera tra l'informissima, cambiano maestro, un minuto all'altro via esecuzioni meravigliose con l'energia che la sa contraddistinguere da sempre, a me da quanto io la conosco bene. Del resto si ha tanto che la musica sono espressione umana di gentilezza d'animo e di gioia intima che in ogni tempo costituirono una nota di serenità e distrazione nella vita dei nostri avi, quanto proprio la vita era difficile, dura, arida e settata in mani di estrema povertà. Questo è ripreso da un articolo bellissimo di Pasquale Pizzini che introduceva il libro della storia della banda sociale di Roncone, proprio dall'origine del primo statuto fino appunto ai cent'anni, quindi ho mai un libro di quasi trent'anni fa, senza parola. Benissimo, i maestri di cui ho parlato finora mi permetteranno di dire che il brano che sto per presentare e il maestro che sto per presentare è quello, come dire, che inaugura la nuova generazione della banda sociale di Roncone, ovvero la generazione di tutti gli effetti dei giovani. Si parla di Sergio Rizzonelli che questa sera dirige Backdraft, Fuoco assassino, Backdraft, è un film del 91 diretto da Ron Howard, è stato il primo successo al film mondiale del regista. La musica di Hans Zimmer è stata più arrangiata da Masato Mio Kyo, Mio Koi. Dirige Sergio Rizzonelli, Backdraft, la banda sociale di Backdraft. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.